Ciao a tutti! Ciao! Oggi vogliamo dedicare questa tarantella a un nostro caro amico che non c'è più, un amante delle nostre tarantelle, della musica popolare calabrese. Lui ci seguiva dalla provincia di Reggio Calabria, precisamente Motta San Giovanni. Adesso questa tarantella la dedichiamo a te, compare Ghetano. E che questa tarantella arrivi fin lassù. Fin lassù. Un bacio! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Un saluto! Un bacio, compare Ghetano!